Un buongiorno a tutti da Gliu65, oggi facciamo un video parlando di un fumetto Bonelli, un fumetto Bonelli che esce tuttora e siamo intorno alle 260 uscite. Parliamo di, parliamo di, parliamo di, parliamo di Giulia, le avventure di una criminologa e quindi sono ormai 22 anni, lei non cavalca come Tex, non tira scuri come Zagor, ma è a tutti gli effetti un eroe Bonelli, credibile e cazzuto, soprattutto tenace. È ovviamente una criminologa che insegna all'università criminologia e collabora con il tenente web del commissariato di Garden City, che è la città in cui abita, e col suo secondo Big Ben Irving, chiamato Big Ben ovviamente perché è enorme, modellato sulle fattezze di John Goodman, l'attore John Goodman, mentre ovviamente si può notare che la nostra bella criminologa è, altri non è, che Audrey Hepburn di Colazione da Tiffany. Se qualcuno non sapesse, se andasse a vedere il film, una attrice, come non ce ne sono più, dalla classe innata, una donna esile di classe, con questi occhioni da cerbiato, molto lontana dalle pin-up, ma ugualmente fascinosa, una criminologa che ha perso i genitori quando era piccola, quindi soffre la mancanza dei genitori, ogni tanto ritorna nel fumetto questa mancanza della figura paterna e materna. È stata cresciuta dalla nonna Nillian, che ora è in una casa di riposo, probabilmente per dare più agio alla nipote di poter vivere una vita sua, una nonna comunque in gamba, ancora capace di dare ottimi consigli, che lei va ogni tanto a trovare, e ha una sorella, Norma, che fa la modella, più piccola che fa la modella, quindi è sempre in giro per il mondo, ogni tanto capita all'interno degli albi, dopo il rientro dei suoi viaggi, è un ex tossicodipendente, ogni tanto ci ricada, diciamo che ogni tanto entra ed esce da qualche dipendenza, e quindi Giulia la deve tenere d'occhio. Altri comprimari di Giulia sono il buon tenente Webb, che è innamorato, ha un'attrazione verso Giulia, è un nodo di amore reciproco, mai sfociato nella storia, perché questo probabilmente avrebbe inficciato nelle storie bonelliane, diciamo che loro due litigano sempre, perché Giulia è fortemente anarchica, liberale, mentre Webb è autoritario e militare, e quindi le due personalità entrano in conflitto, ma tra loro c'è un'grandissima attrazione, che però ovviamente non è mai sfociata in un legame serio. Altri comprimari della serie, Giulia è, ha una gatta che si chiama Tony, una gattona che ogni tanto fa capolino nelle sue storie, che lei pettina, diciamo, come se fosse un figlio, una gattona bianca, una governante con le fattezze di WP Goldberg, Emily, che gli fa sempre mille pranzetti, perché ovviamente lei, praticamente lei fa tutte le faccende di casa, di Giulia, che è una donna molto impegnata fra insegnamento all'università e investigazioni con la polizia, e a volte anche investigazioni con l'amico Leo Baxter, un altro dei comprimari di Giulia, un fratellone, possiamo definirlo un fratellone di Giulia, tra loro c'è un'amicizia, non c'è amore, probabilmente forse ci potrebbe anche essere qualcosa di più, ma ormai sono troppo legati come fossero fratello e sorella, e quindi questo investigatore privato, biondo, manesco, spesso impegnato in schiazzottate, perché ha tirato di box, ha una peculiarità, è stato cresciuto da un papà nero, ed è ovviamente un tomboyard femme attirato da le black girl, lui è un tomboyard femme di donne di colore, quindi diciamo che da Giulia non è attirato, o lei vede Giulia troppo per lui, quindi questa piccola Audrey Hepburn con gli occhi d'acerbiato che sembrerebbe in difesa, è invece una cazzutissima cacciatrice di serial killer, di qualsiasi cosa riguardi delitti commessi all'interno di Garden City, e esce armata di una borsetta in cui ha inserito un portacenere, con cui ogni tanto tramortisce qualche persona nei momenti in cui è in difficoltà, ha altri comprimari, come Timoliri, un ladro, diciamo un topo d'alberghi, di quelli che rubano i gioielli, quelli che non fanno del male a nessuno, ma portano via i soldi, i gioielli, una specie di Arsenio Lupin, modellato sulle fattezze di Gregory Peck, e poi i buon Berardi, lo sceneggiatore, e Milazzo, disegnatori, entrambi genovesi, hanno voluto, per non togliergli la nota d'amore a questo personaggio che è ogni tanto malinconico perché è solo, ho voluto farla innamorare di un poliziotto italiano che ha conosciuto in una storia, e che ovviamente vivono una storia da lontano, che non va ad interferire troppo nel plot della serie. Che dire, una detective con gli occhi da cerbiato, ma con uno spirito da tigre, coraggiosa, non si arrende davanti a niente, non si ferma, grandissima intelligenza fin da quando era ragazzina e frequentava i corsi di criminologia, già era stata portata al commissariato per dare una mano, da lì inizia la collaborazione che poi la vedrà diventare grande, quindi Big Ben Irving la vede come una sorella piccola da proteggere, nemici di Giulia, tutti criminali, ma un nemico numero uno, Mirna Arrod, una serial killer, la serial killer degli occhi, una psicopatica che ha avuto una vita d'inferno con il padre che la picchiava, e quindi riversa tutto il suo odio verso il mondo, impadronendosi di... plagiando le persone, impadronendosi delle loro identità, ed è segretamente innamorata di Giulia. Giulia questo lo sa, e molte volte quando si sono trovate a confronto, la serial killer non è riuscita a ucciderla soltanto perché in fondo, in fondo, l'ama, e quindi la loro guerra eterna deve continuare. Che dire, una piccola Audrey Hepburn che entra nel mondo della criminologia, i primi numeri furono molto più duri, poi dopo alla serie fu dato un connotato molto molto più, con uno stampo un po' più leggero per non far sì che diventasse troppo greve, quindi Giulia ha humor, ha classe, legge tantissimi libri, quindi è colta, suona al pianoforte, come si conviene ad una donna di un certo livello, ma è capace di stare anche con le persone che non sono del suo livello, perché è una donna intelligente. La classica donna che tutti vorremmo accanto, ma purtroppo per lei non trova nessuno che le sta accanto. Il light motive di questa serie è anche quella, la sua solitudine. Qua possiamo vedere varie copertine del fumetto, è una donna che è sprezzante del pericolo, non si ferma, ha paura come tutti, ma non si ferma davanti a niente. Un fumetto magistralmente ideato da Berardi, è disegnato da vari disegnatori, sceneggiato da Berardi, ma magistralmente disegnato da tanti disegnatori che chi più chi meno mettono in risalto la bellezza di Giulia, i panorami di Garden City, i vari comprimari, una serie poliziesca da seguire. Magari un'unica pecca è magari un costo un pochettino, secondo me, eccessivo, che non aiuta, secondo me, il numero di venti. Io ribadisco il concetto, i fumetti devono costare meno, e ne devono essere venduti di più. Il problema non è aumentare il prezzo, il problema è aumentare la platea, la platea l'aumenti con un prezzo più basso. E lo dice uno che di Bonelli legge quasi tutto. Quindi un fumetto che consigli, un fumetto per qualsiasi età e qualsiasi sesso, un fumetto vincente, che spero continui ancora, perché Giulia è una donna, una trentenne simpatica, che chiunque vorrebbe conoscere. Scorazza per Garden City con la sua mitica Morgan, una macchina d'epoca che ha comprato da Iorgo, il suo garaggista, che gli ha detto che una donna di classe come lei deve avere una macchina di classe come la Morgan, che è una macchina di classe degli anni Sessanta e che sta benissimo guidata da Giulia. Non fosse per l'unico difetto che la lascia spesso a piedi, ma questo sarà il motivo per fare entrare altri comprimari e per rendere, diciamo, la storia di Giulia più movimentata. Che dire Giulia? Un fumetto che consiglio a tutti. Basta andare in edicola e lo si trova. Un saluto da Lux65.